Ciao dolci unicorni, ho qui un'intera confezione dei nuovissimi fiocchi pop star Io ho fatto anche lo spot in tv, infatti tantissimi di voi mi stanno scrivendo e si sono io in tv con questo spot Li adoro troppo, cambiano colore con un tocco magico, adesso vedremo come E costano 4,99€ a bustina, detto questo iniziamo subito a spacchettarli insieme Eccoli qui tutti i nostri fiocchi, sono in tutto 12 fiocchi diversi e sono 6 fiocchi con lo stile unicornoso e 6 fiocchi con lo stile mermaid Quindi sirena, la cosa principale, la cosa che io adoro di questo prodotto e che ne dicono li trovate così Quindi potete già scegliere da fuori il vostro fiocco preferito o comunque anche la vostra serie, quindi se unicorno o sirena Infatti anche nello spot di voi io dico sei più sirena o unicorno? Quindi fatemi sapere giù nei commenti alla fine del video quale di questi vi è piaciuto di più, quale stile vi rappresenta di più Detto questo iniziamo subito 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 ad aprire il primo fiocco E ovviamente ho scelto questo qui, questo qui secondo me è bellissimo, è veramente stupendo Allora costano 4,99€ ve lo ripeto Iniziamo a spacchettare, prendo le forbici Eccole qui le mie amichette forbici Andiamo ad aprire, ok, leviamo tutto Buttiamo anche tutto giù E questo qui è il fiocco unicornoso Che io ho adorato, quando ho fatto lo spot in tv me ne sono innamorata Perché secondo me, cioè, è bellissimo È super mega, iper bello Ovviamente con questi fiocchi potete fare di tutto e di più Perché li potete mettere non solo ai capelli Ma anche alle scarpe Magari anche in una borsa Magari anche nei jeans Ecco, ci sono tantissimi modi con cui potete giocare con i nostri fiocchi Guardate l'unicornino che sbuca Cioè, guardate La puccioseria Sono bellissimi secondo me Anche come qualità E soprattutto anche per fare dei tiktok Super mega, hyper fashion Poi guardate, ma che carino Lui sorrinde No, vabbè Adoro, adoro troppo Andiamo avanti con un altro Anche questo qui fa parte dello stile unicornoso Ed è tutto rosa Con, diciamo, gli strass Che sono degli strass giganti Cioè, guardate che bello questo qui È tutto rosa, tutto rosa Poi c'è qui anche disegnato il simbolo dei pop star E sono bellissimi I fiocchi pop star sono delle shikaboom E adoro, adoro troppo Guardate quanti ce ne sono 12 tutti diversi Adoro, adoro E sono facilissimi anche da mettere Perché hanno praticamente Ve lo mostro subito Questa qui Che è una forcina Una mollettina Ecco, gigantesca Da poter mettere ai capelli Alle scarpe Ai jeans Ovunque volete voi E non fa neanche male alla testa Ve lo posso assicurare io Dato che ho lavorato per questi fiocchi Tantissimo per fare lo spot di V E non ho mai, mai, mai Avuto fastidio Quindi, evviva Ok Andiamo avanti con un altro unicornoso Così Vi mostro quella unicornosi per prima Giustamente Questo qui è quello lilla È molto, molto tenue come colore Mi fa impazzire È stupendo Poi vi posso dire che La tipologia e la qualità Cioè È morbidissimo È super mega Iper morbido Guardate gli strass Giganteschi Anche questi Poi c'era un altro Che quando l'ho visto Ho detto No, vabbè Adoro È tipo tutto colorato Ed è pieno Pieno, pieno Di unicorni E quindi tanto, tanto Love Per questo fiocco Cioè, guardate che bello Io questo qui Lo vedo benissimo Anche in un paio di scarpe Magari sia da un lato Che dall'altro lato Sopra i lacci Secondo me Top, top Troppo, troppo carino È tipo Un arcobaleno gigante Con tutte le testoline Dei nostri amici unicorni Quindi Bellissimo Andiamo avanti Ok Anche questo qui È super mega Iper bello Questo io lo definirei Sia unicornoso Sia mermaid Perché se notate Guardate Se notate Ha anche Tutto questo qui Che è il disegno Che mi ricorda La coda La codona Di una sirena Io non so se siete stati mai In un parco acquatico E ci sono Quelle sirene gigantesche Ecco Hanno la coda così E sono stupende Veramente Super mega Iper belle E questo è bellissimo Perché è anche cromato Quindi wow Poi andiamo avanti Qui invece Allora 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 No Me ne era scappato Un unicorno Ok Eccolo qui Perché infatti Stavo dicendo Ne manca uno Ovvero quello Pastelloso Quello pastelloso Eccolo qui È tipo arcobaleno Ma molto più tenue E questo qui È molto elegante Secondo me È troppo Troppo carino Ragazzi Guardate anche le sfumature Cioè Wow Troppo Troppo Bello Adesso è arrivato il momento Di mostrarvi Quelli invece A sirena Mermaid E sono bellissimi Perché cambiano colore Con un tocco magico Come infatti Vi dicevo anche prima Perché hanno le paillette Cambia colore Allora Vediamo Apriamo Senza fare danni Corinne per favore Ok Guardate Intanto si vede già Che è tipo multicolor Poi È tipo verde Blu Se noi andiamo a fare Tipo così Guardate come diventa Diventa un fiocco Nero Gigantesco Poi ovviamente Uno lo deve sistemare meglio Ma intanto è per farvi Vedere Come cambia colore Dovete sistemare Tutte le paillette Da verde Diventa un fiocco Gigantesco Nero E secondo me È troppo bello Io non lo userei mai Dal lato verde Ma sempre dal lato nero Perché come sapete Adoro anche il nero E è un po' meno Il verde Andiamo avanti Con questo qui Che è multicolor E quello multicolor È veramente Wow Sembra tipo Da festa Ecco Ok Stavo per tagliare Una paillette Mamma aiuto Guardate qui Di colori Cioè È super colorato È un fioccone Bellissimo Guardate che bello Tipo stile Un po' clown Non so perché E se fate così Diventa Totalmente Argentato Quindi da multicolor Diventa Argentato Mamma mia Che bello Sembra Che lo dobbiamo Utilizzare Magari per una festa Che ne dite Guardate che bello Stupendo Fatemi sapere Mi raccomando Giù nei commenti Quali di questi Vi è piaciuto di più Questo qui Fucsia È in assoluto Il mio preferito Di quelli Di stile Mermaid Perché ovviamente È fucsia Ed è fucsia forte Ok Stavo tagliando la carta E poi Quando diventa Reverse style Diventa Guardate Argentato Anche questo E io questo Non lo farei In monocolore Lo farei Un po' E un po' C'è un po' Fucsia Un po' Argentato Tipo guardate Già così Che bello Questo effetto Secondo me È troppo Troppo carino Andiamo avanti Con questo qui Bianco Questo qui Bianco È un amore Cioè È veramente Stupendo È pucciosissimo Questo color panna Mi piace tantissimo E questo qui Da multicolor Così Un po' cromato Un po' madreperlato Rosa Diventa totalmente Bianco Quindi se ne andiamo A fare così Ecco Qui infatti Metallato State notando Che è bianchissimo E l'altro lato Invece Mi ricorda La sirena È la coda Di una sirena Guardate che bello Cioè Proprio così Se lo vediamo così È una coda di una sirena Cioè Wow Bellissimo Stupendo Anche questo Mi fa impazzire Gli ultimi Abbiamo questo qui Che è bellissimo Quando io l'ho visto Durante lo spot Ho detto No vabbè Ma questo è epico Perché Adesso ve lo mostro subito Guardate Guardate Ha questo lato Che non è verde È tipo Un blu Un azzurro Molto molto scuro Quasi forse petrolio E poi se andiamo a fare così Cioè Diventa rosa Un fiocco rosa Bellissimo Quindi questo qui Mi sa che è anche uno Che Secondo me Vi piacerà tantissimo Guardate che bello Cioè top Questo Mi fa impazzire Andiamo avanti Con l'ultimo L'ultimo È questo qui Che da rosa Va a diventare dorato O da dorato a rosa Viceversa E tutti stanno cadendo Molto bene Fiocchi Siete monelli Dovete tornare Nella confessione Ok Eccolo qui Guardate che bello Sono bellissimi A parte che sono tipo Giganteschi E poi sono veramente Belli belli Non solo eleganti Ma anche per tutti i giorni Magari anche a squalo Nello zaino Guardate che bello dorato Cioè Wow 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 Stupendo Super Mega Iper Bello Secondo me Sono veramente top Che dire I fiocchi pop star Della Chica Boom Mi piacciono veramente tantissimo Vi ricordo che li potete trovare In edicola 4,99€ E li potete utilizzare Per tutto Per le scarpe Per i capelli Per la borsa Per i jeans Potete sbizzorrirvi Con la vostra fantasia Io vi mando Un grandissimo bacio Super mega Iper puccioso Mua Vi voglio bene E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao dolci unicorni